ciao a tutti ragazzi sono megadome 911 e bentornati in questo nuovo video scusate il tempo che è passato tra un video e l'altro però a causa di impegni vari non sono riuscito molto ad andare a mare sto seguendo un percorso per me importante a livello lavorativo che spero renda bene prossimamente e mi impegna molto del mio tempo libero quindi non appena ci sarà occasione non vi preoccupate che recupereremo intanto almeno qui in sicilia poi non so nelle altre regioni fatemi sapere ma si sta assistendo ad un innalzamento della temperatura pauroso quindi che cosa conviene fare quando le acque si riscaldano e la temperatura aumenta beh ragazzi è il momento di prendere un po di scaviva e sondare il fondo alla ricerca di pettine surice saraghi sugherelli lecce stella occhiate tutto quello che ci può capitare a tiro triglie bormore qualunque cosa oggi vi mostrerò una montatura da bottom rig quindi un bottom rig una piccola montatura da utilizzare per la pesca a fondo con terminali sottili e canne divertenti ma volendo si può usare anche con la lenza a mano che non ho avuto modo di mostrarvi fino adesso è una montatura di una semplicità unica ho scelto i materiali per costruirla e formato xxl quindi extralarge proprio per far per dare una visibilità video diversa ahimè non ho trovato perfino colorato ma questo qui abbastanza grosso e quindi si dovrebbe vedere lo stesso questa montatura risulta essere micidiale soprattutto per quello che lo strusciare il piombo a fondo e le esche quindi di conseguenza in con due ami contemporaneamente alla stessa altezza e è particolarmente efficace nei fondali sabbiosi per insidiare quello che da noi viene chiamato il pettine cioè il pettine surice ossia uno dei pesci più voraci che abbiamo nei nostri mari anche dei più gustosi una volta pescato e fritto soprattutto quelli un po più grossi che da noi vengono chiamati i verdoni comunque dei pettini surici un po più grandi raggiungono anche spesso i 20 22 centimetri e che hanno delle carni veramente prelibatissime squisiti soprattutto se fritti è un pesce prevalentemente estivo ma si può trovare già con il cominciare della primavera inizio estate poiché appunto con l'aumento della temperatura dell'acqua questi pesci che prima hanno passato le stagioni più fredde insabbiati adesso iniziano ad uscire un pelino dalla sabbia e a notare immediatamente l'esca che secondo me fa da padrone a questa pesca che è il coreano rosso normale quello che sia cambia poco ma sicuramente l'esca fondamentale il coreano ma sono talmente voraci che mangiano di tutto mangiano dei pezzetti di carne rossa scongelata o fresca meglio ancora li potete prendere anche con il bigattino però ragazzi credetemi una pesca che faccio da quando avevo praticamente sei anni i primi pesci che ho preso sono proprio i pettini surici e amano gli ami messi più vicino possibile al fondo e con un pezzettino anche solo piccolo impercettibile di coreano sentirete delle toccate pazzesche per dei pesci così piccoli sicuramente li avrete già catturati ma per chi non li ha presi o non li prende di frequente rimarrà meravigliato da come i pesci così piccoli riescano ad essere allo stesso tempo così voraci e volendo anche vivaci poi in fase di recupero e di mangiata allora ci servono sostanzialmente soltanto tre cose anche gli ami ovviamente ma quelli sono diciamo a discrezione vostra io uso quelli misura 16 vanno benissimo non troppo piccoli perché altrimenti rischiereste di farglielo ingoiare e poi se rompete dovete sia pulire il pesce che dal lamo ricordandovi in quale pesce andate a finire oppure con lo slamatore rischiereste di rompere il terminale eccetera mentre con gli ami misura 16 la boccata avviene perfettamente il 90 per cento delle volte sul labbro di questi pesci che è anche abbastanza ben dentato e rischiano anche di modervi leggermente diciamo non sono pesci pericolosi però spesso si muovono essendo molto viscidi e vivaci si muovono spesso e velocemente e possono anche moldervi polpastrelli a me è capitato hanno dei denti come dei vampiri quindi state attenti ma con ami misura 16 sicuramente riuscirete a pescarli allora ci servono tre cose sostanzialmente innanzitutto girelle di buona qualità ovviamente in acciaio inox inossidabile ho preso una extra large perché voglio farvi vedere solo questo semplicissimo nodo che è veramente di una facilità estrema un po di filo robusto questa è una montatura che si presta bene per terminali non troppo sottili quindi non andate sotto lo 0,20 0,20 0,18 già siete al limite ma dallo 0,18 diciamo fino allo 0,25 andate alla grande perché non si può scendere sotto beh semplicemente perché essendo due fili che viaggiano parallelamente in fase di recupero di calata potrebbero aggrovigliarsi se i fili sono troppo sottili inoltre e con con questa montatura mi è capitato anche di avere a che fare con i pesci balestra e vi assicuro che se prendete quelli avere un carico di rottura un filo leggermente più robusto vi farà dire meno male che avevo il filo più grosso perché vi farà concludere il recupero con un filo dello 0,12 0,14 è un po dura e aumentereste il rischio di possibili ingarbugliamenti quindi fate in modo sempre di avere fili che vanno appunto dallo 0,18 allo 0,20 come madre mettete quello che volete ma come terminali andateci un pochino più grossi non è vero che mangiano meno non è vero che ne prendete di più con i fili sottili semplicemente avete due ami che strusciano scarrocciando poi con la barca sul fondo e sono tutte e due al 100 per cento pescanti proprio nelle posizioni nel modo nella zona della colonna d'acqua che è quella più inferiore che è proprio quella più gradita al pettine sulice quindi mi raccomando fate come vi faccio vedere io e poi fatemi sapere nei commenti come è andata allora girella extra large in questo caso per scopi di visibilità filo addirittura qui abbiamo un 40 stiamo proprio esagerando è troppo grosso ovviamente non andate oltre il 25 come vi dicevo e poi ci serve un piombettino possibilmente da drop shot di peso questo è piccolino è 10 grammi vi consiglio un 25 30 grammi massimo 40 grammi perché pescherete dalla barca in fondali che vanno dal dal metro fino al massimo i 56 metri non oltre altrimenti poi la zavorra diventerebbe insufficiente per rimanere a fondo e rimarrebbe in balia della corrente quindi filo terminale dallo 0 18 allo 0 25 girelle buone ovviamente molto più piccole di questa e piombettini possibilmente da drop shot quindi con anellino o quelli direttamente con l'anellino in piombo che fa parte del piombo stesso oppure questi qui proprio classici da drop shot allora il nodo che dobbiamo fare è semplicissimo dobbiamo simulare una sorta di dropper loop senza però andare a chiudere quindi togliendo quella che è la parte finale del dropper loop stesso allora prendiamo un moncone di filo libero ok per il momento lasciamo tutto fuori sia piombo che girella tutto tutto quanto fuori tra l'altro ora sul piombo c'è anche un'altra cosa che potremmo aggiungere volendo altre due anzi allora la prima cosa che dobbiamo fare è fare una asola quindi una e così spero si veda perché purtroppo il filo colorato non l'ho più potuto trovare ecco qui si vede bene una volta fatta questa sola prendete da un lembo e dall'altro lembo in questo modo dopo di che iniziate ad attorcigliare una delle due parti superiori dell'asola all'interno dell'asola stessa diciamo ecco in questo modo qui diciamo che dovreste procedere come fate per il dropper loop per il nodo dropper loop e andandoci poi un 4 5 6 volte 7 volte insomma quelle che preferite ma un non meno di 5 volte direi per un nodo diciamo abbastanza resistente ok una volta fatto così che cosa facciamo iniziamo a serrare il nodo in questo modo vedete vi dovreste trovare vediamo se la telecamera riesce a mettere a fuoco in questa situazione qui ecco abbiamo ecco così forse si vede meglio perfetto abbiamo due asole una a destra e una a sinistra a questo punto siamo pronti per inserire la girella non inseritela tutta inseritela nella parte sotto questa parte qui la parte sopra la lasciate libera adesso vi spiego perché quindi inseritela qui in questa sola qui eccola e andate piano piano a serrare il nodo state attenti perché un nodo che si va a sciogliere pian piano quindi ecco fate così piano piano e andate quindi a serrare il nodo in questo modo qua ok non vi preoccupate se esteticamente non è bello da vedere ma vi assicuro che abbastanza resistente ok una volta fatto questo ci troviamo in questa situazione abbiamo una girella legata in questo modo con due terminali che scendono adesso le misure del terminale andiamo cielo un attimino a sistemare così e tagliamo qua diciamo un 7 8 centimetri non di più giusto per dare un po di filo al nodo e questa è la situazione in cui ci troviamo una girella che non nella sola nella una girella che ha il nodo praticamente all'interno lasciando l'occhiello libero spero si riesca a vedere bene adesso forse si vede quindi come vedete il nodo è sopra l'occhiello e non sotto qui adesso cosa si montano si montano due ami e li potete usare chiaramente ripeto delle dimensioni che volete vi consiglio in linea di massima ami piccoli perché permetteranno poi all'amate più frequenti e soprattutto non troppo piccoli al contempo quindi un amo misura 16 va benissimo occhiello paletta fate voi che viaggeranno praticamente così sul fondo dove vedete queste due dita qui viaggeranno in questo modo qui per il piombo prendiamo un pezzettino di filo che c'è rimasto lo colleghiamo con un nodo uni semplicissimo quindi facciamo un giro solo perché solo a scopo dimostrativo voi chiaramente fatene di più ecco andiamo ad eliminare l'eccedenza ecco qua questo qui ragazzi lo metteremo sotto praticamente dove c'è il nostro la nostra asola libera vedete qui ci sono i due terminali lo andiamo a inserire in questo occhiello qui facciamo anche qui un piccolo nodo uni qui addirittura vi stavo dicendo la chicca di poco fa è o mettete il piombo oppure potete mettere anche un edge ragazzi l'importante è che sia di quelli da barca che sono sempre molto pesanti quindi sempre sui 30 40 grammi non i classici 10 da 15 19 grammi perché non bastano questa è la montatura completa abbiamo questi due terminali la girella che nella parte di sopra verrà collegata alla lenza madre i terminali dovranno essere corti perché più corti sono e meglio è per il pettine surice e poi con l'azione di scarroccio della barca come vedete andremo a pescare lontani l'uno dall'altro ma allo stesso tempo piombati e allo stesso modo tutte e due alla stessa altezza dal fondo spesso si utilizza la montatura che ha un amo pescatore che va sotto il piombo è un amo un po più in alto invece in questo caso abbiamo una palatura a due terminali 1 e 2 e quindi con lo scarroccio della barca grazie al piombo possiamo muoverci tranquillamente muovere un po di sabbia attirare un po l'attenzione il coreano ripeto fa da padrone qui collegheremo poi questa girella alla alla lenza madre praticamente al filo che viene che proviene dal mulinello tutto qui per il discorso piombo se peschiamo in fondali rocciose o vogliamo utilizzare questa montatura light rock fishing nessuno ce lo vieta ovviamente di pescare in questo modo a light rock ma in questo caso la parte non dei terminali che deve essere ripeto sempre un po più grossina come diametro ma la parte del piombetto la possiamo fare questo piccolo moncone che collega il piombo alla nostra girella non di questa volta direttamente nell'anello la possiamo fare di un terminale molto più sottile come uno 0 14 uno 0 12 in modo tale che se si dovesse incagliare il piombo andiamo a perdere il piombo ma recuperiamo l'intero apparato pescante e quindi eventuali anche pesci che sono allamati ma che non sono in tana quindi possiamo anche perdere il piombo fare un sistema con il piombo a perdere o comunque con un sassolino con un pezzetto di metallo insomma qualunque cosa possiamo fare un sistema a perdere semplicemente facendo non di meno resistenti al piombo e diminuendo il carico di rottura del filo quindi diminuendo di conseguenza anche il diametro del filo mi sembra di avervi detto tutto mi raccomando questi due terminali devono essere corti qui in questo caso sono un po più lunghi come potete vedere perché arrivano addirittura oltre il piombo questo perché è ancora dobbiamo fare la legatura per gli ami quindi riservatevi sempre qualche centimetro in più che vi possa permettere di aggiungerci l'amo una volta aggiunti gli ami l'ideale sarebbe se i due ami arrivino più o meno a questa altezza dal piombo quindi a questa altezza qui se si posizionano a due centimetri massimo tre centimetri dal piombo state pescando bene come vedete il sistema è sempre vedete guardate come sono distanti un bracciolo dall'altro bracciolo non si aggroviglierà né in calata in calata gli ami andranno verso l'alto mentre che caliamo poi quando recuperiamo andranno verso il basso ma essendo sopra rispetto al piombo non andranno a ingarbugliarsi col piombo e spesso e volentieri ragazzi vi dirò proprio commentato di fatto che pescando con la maniera classica quindi un amo sotto e uno sopra è più probabile che prendiate un pesce alla volta ma quando andate in una zona buona piena di soprattutto di questi pesci dei pettini surice li troverete molto facilmente sarà molto più probabile avere due abboccate in una volta anziché la classica zona quindi la classica abboccata singola quindi se volete fare un discreto numero per una frittata sempre rispettando ovviamente le norme massime riguardanti il peso di pesce prelevato potete facilmente o velocemente procurarvi anche un po di escaviva per carità farvi qualche pesce in maniera più veloce più funzionale e soprattutto molto molto semplice inoltre avendo un diametro di filo un pochino più grosso possiamo insidiare qualche besce balestra qualche tracino un po più grande o qualche pagretto che magari supera anche 200 grammi ovviamente sono da rilascio però con diametri di questo tipo anche saragi un pochino più importanti riusciamo con un po di esperienze di pazienza a tirarli fuori anziché utilizzare fili troppo sottili che ripeto al di fuori nel sistema del piombo non hanno senso in questo caso anche perché ci farebbero ingarbugliare più velocemente mentre se così vedete i braccioli e i terminali rimangono veramente distanti l'uno dall'altro guardate le mie due mani sono completamente uno da una parte e uno dall'altra quindi non avrete problemi quindi che dire questa è una montatura interessante prettamente estiva o primaverile provatela nelle vostre chiaramente con le vostre modifiche con i vostri accorgimenti fatemi sapere eventuali miglioramenti si possa fare io con mio padre la usiamo da una vita onestamente non la cambieremo però se è sempre bello confrontarsi e migliorare perché si può sempre personalizzare tutto nella pesca e che dire recupereremo presto con delle pescate dal vivo in cui la proveremo proprio e la proverò anche insieme a voi e ci vediamo alla prossima ciao ciao